La Peugeot 207 THP è un'auto molto particolare, molto divertente E' una sportiva con la carosseria di una utilitaria normale E' rifinita un po' meglio della versione base della 207 Però all'apparenza dei più sembra proprio una 207 normale con un motore tranquillo Mentre invece questa monta il motore della Mini Cooper S Con qualche cavallo in meno, sono 156 cavalli per questo 1.6 turbo Un motore che dà l'anima veramente In attesa di che appaia la nuova GT con motore da 180-200 cavalli Vedremo in che versione uscirà Questa è una versione molto equilibrata per chi ama guidare con piacere Con brillantezza e avere un'auto molto compatta Sia che non appaia, sia che possa essere parcheggiabile in città come un'utilitaria normale Dentro è molto comoda come vedremo E dà tutte le soddisfazioni, questa è full optional Quindi ha tutti gli accessori che potrebbero essere propri di una vettura Diciamo a miraglia, quelle che si dicono del segmento premium a miraglie Ha i sedili in pelle e tessuto Ha il navigatore satellitare Ha un ottimo hi-fi Ha il telefono bluetooth Poi per quanto riguarda la caratterizzazione sportiva Il cambio a sei rapporti, vedete che è un po' bello in alluminio E la pedaliera sportiva in alluminio Strumentazione bianca, quindi una piccola caratterizzazione Ma nessuno direbbe che sotto il cofano ci sono 156 cavalli E che quest'auto è capace di sfiorare i 220 all'ora E accelerare da 0 a 100 in un tempo intorno agli 8 secondi per un guidatore normale Il pilota esperto riesce a fare anche di più Non certo l'inverno con il fondo viscido quando c'è neve e sale sulle strade Ma nella stagione estiva con delle buone gomme Queste sono delle gomme sportive L'autovettura può dare veramente grandi soddisfazioni Lo in attraction brage Fono Buonnero Buon Sierra Buon Ris影 Buon 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 Buon